La grande macchina delle vaccinazioni è tornata in moto per mettere al sicuro con la quarta dose fragili over 60, ma nella giornata di ieri l'iniziativa si è scontrata con una serie di enormi problemi tecnici. L'Asla Napoli 1 ha deciso di dare il via al weekend, invitando non solo i soggetti interessati dalla campagna appunto over 60 e fragile a farsi somministrare la nuova dose booster, ma anche chi non rientra in quella fascia d'età e gode di buona salute. Presso i punti vaccinali della fagianeria, i distretti sanitari, i medici di medicina generale, e le farmacie, è possibile somministrare la quarta dose booster del vaccino dopo 120 giorni dalla terza somministrazione agli ultrasessantenni e ai soggetti fragili, recita il testo dell'SMS ricevuto da migliaia di napoletani. Di tutta risposta non si è creato nessuno stato di caos generale, ma sono comunque state molte le persone che hanno contattato gli hub o che si sono recate in farmacia alla ricerca di un vaccino, nonostante non rientrino tra i destinatari della campagna vaccinale in corso. Tutto questo mentre quella fetta di popolazione con gravi problemi di deambulazione ancora attende l'organizzazione delle somministrazioni a domicilio della nuova dose di vaccino anti-covid. Stringata la risposta dell'Asda, la polemica sorta in seguito a questo pasticcio sul fronte della comunicazione. Il messaggio è un avviso generico e informatico, non l'abbiamo mandato nominativo proprio per evitare che potesse essere inteso male. Insomma, un puro e semplice SMS informativo, e ciò nonostante è riuscito a creare disagi. In ogni caso, proprio l'hub dell'ex faggianeria del Real Bosco di Capodimonte da lunedì 25 luglio aprirà due giorni a settimana per le somministrazioni della seconda dose booster. Lunedì e mercoledì i giorni designati, con accesso disponibile ai soli prenotati.